Qual è la capitale del Canada? Non sbirciare! Canada City? Sbagliato! È Ottawa! Non me la ricorderà mai questa! Ottawa? Ok, allora... L'inizio della parola è chiaramente un otto e il wa è come wow! Otto wow! Otto wow! Ottawa! Così me lo ricordo! Bella questa! Ok, devo dare da mangiare a Runny Ronda Devo andare via anch'io Ehi, cercate di studiare voi due Vi conviene se volete essere preparati Siamo preparati, giusto Dingleman? Sì, assolutamente Sì, appena più Ciao! 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 Scott, sta per cominciare la maratona dei film sui nostri alieni in televisione! Sarà meglio sbrigarsi! Quasi dimenticavo il popcorn! Grande! Quello sarebbe il modo di studiare? Che cosa ci trova, Mina, in quello, Scott? Sì, e si mangia tutto quello che c'è! Già! Mi chiamo Scott e non sono neanche capace di fare i compiti! Sì, ragazzi, io mangio di tutto! Sì, sì, e quando parlo sembro un surfista, anche se io non abito in California! Scott! Oh! Oh, no, 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 no! No, no, no! Mina! No, non farlo! Mina! No, 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 no! Ma Nicola, fa qualcosa! Mina! No, 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 no Ah. Mmm.